Pozza, Calabria, Marzucchi, Giannettoni, Giolo, Lavorato, Rubin e Cianni, questi sono i 18 finalisti, ora schierati sulla linea di partenza. Ecco il giudice arbitro Gianluca Basile, impartire le ultime raccomandazioni agli atleti, la finale parte in questo momento. Anche per loro, così come per le allieve, 17 giri sentiranno la prima campana a meno 15 e poi giri pari punti, giri dispari campana ed è Gisio Erba che si porta in testa a controllare il gruppo. Seguito da Lavorato, Gisio Erba ora si frappone tra di loro l'atleta dell'Anvin Line, Ricca. Suonata la prima campana, quindi entriamo nel giro che assegna i punti ed è Gisio Erba a lanciare la volata dei primi punti con Ricca in seconda ruota. Poi Ponziani, punti 51-50, quindi Gisio Erba e Ricca, sono loro a prendere i primi punti. Ancora Gisio Erba, Ricca, Ponziani nelle prime tre posizioni. Campana di meno 13 con il terzetto ancora saldamente a comando con Gisio Erba a dettare un ritmo impegnativo, difficile saltargli davanti per andare a prendere i punti. Ed è ancora sul passaggio al traguardo Gisio Erba con Ricca. Quindi quattro punti per Gisio Erba, due per Ricca in questo momento. Come la sovraimpressione ci mostra sul teleschermo, ancora Gisio Erba davanti a Ricca. Poi i Ponziani dietro di loro si alternano nel tentativo di saltare davanti, ma è un'operazione assai difficile. Ed è ancora Gisio Erba che va a prendere i punti davanti a Ricca. Si sono divisi i punti tra di loro fino a questo momento, i due atleti. Con Ricca ora che si rialza per rifiandare. Ed è l'atleta dei battinatori Spinea, Giolo, a lanciare ora l'azione per i punti di meno 8. Giolo con Gisio Erba in seconda ruota. Ora Gisio Erba taglia dentro. Va a prendersi ancora i due punti. Quindi due punti per Gisio Erba e un punto per Giolo. Classifica parziale al momento. Gisio Erba 8 punti, Ricca 3, Giolo 1. E siamo alla campana di meno 7 con Giolo ora che si è portato in testa a tirare il ritmo. Vediamo se Gisio Erba lo lascia fare o se andrà a prendersi ancora una volta i due punti. Eccoli al passaggio ed è Giolo davanti a Gisio Erba quindi 111 e 51. Nel frattempo il gruppo si è un po' frazionato con i due atleti ora della Benzana che cercano di mettere anche loro la firma sul tabellino dei punti. Ed è... Eccolo ora al passaggio i punti. Giannettoni va a prendere due punti davanti a Gisio Erba che ora rilancia l'azione solitario. Ed è Gisio Erba l'atleta del Roma 7 ad allungare con i due atleti della Benzana che cercano di aiutarsi uno per l'altro per restare fuori, non essere riassorbiti dal gruppo. Con Gisio Erba che va a prendere ancora due punti davanti a Mazzucchi che entra nei punti. Anche lui ora al passaggio ci sarà il suono della campana per l'ultimo giro ed ecco lo solitario, l'atleta di Roma 7, Gisio Erba davanti ai due atleti della Benzana. Poi un'altra coppia di Cesen Roma ed è Gisio Erba che controlla e comincia già ad esultare ed è Gisio Erba che va a vincere il titolo italiano. Davanti a Giannettoni a questo punto che totalizza quattro punti e poi tra Giolo e Ricca bisogna vedere nelle posizioni come si sono classificati nel finale visto che erano a pari punti, a tre punti.